Si è battuto questa notte un forte maltempo in diverse zone del Salernitano e dell'Agro Nocerino, causando diversi danni alla popolazione. All'alba di questa mattina, molte città si sono risvegliate e sommerse dall'acqua, a causa delle forti piogge che sono cadute incessantemente questa notte. Situazione decisamente critica nelle frazioni metelliane. I cittadini, ostaggi del maltempo, sono stati impossibilitati di uscire di casa. Tanti post di denuncia su Facebook, gran parte dei disagi, secondo i cittadini, sarebbero causati da una mancanza di prevenzione da parte dell'amministrazione. Scenario disastroso anche nell'Agro Nocerino, con i fiumi che si sono ingrossati oltre normale. I sindaci hanno chiuso le scuole. Stesse problematiche anche ad Angri e Mercato San Severino, con allagamenti nelle strade principali che hanno reso problematica la viabilità dei mezzi. L'allerta meteo, diramata dalla Protezione Civile, proseguirà fino alla mezzanotte del 30 ottobre, con livello di criticità ordinaria. Codice di colore giallo.